salve a tutte ragazze bentornati sul mio canale youtube torno con un nuovo video per mostrarvi il mio nuovo progettino e quindi nuovi kit che ho preparato sono un paio di orecchini molto molto particolari dove ho usato un rivoli da 10 mm il risultato mi piace tantissimo mi hanno fatto un po' penare perché mi ero imposta appunto di usare un rivoli da 10 mm e le perle da 8 quindi diciamo che ci sto lavorando da tutto il mese di febbraio quindi veramente è stato veramente molto tosta anche perché appunto mi ero incaponita di usare queste due tipologie di perline magari se cambiavo ne usavo altre magari mi veniva qualcosa anche prima comunque vi mostro il progetto e la versione che andremo a realizzare insieme nel tutorial che è questa a me piace da matti anche l'abbinamento la forma e i vari giochi dato dalle rocaille e vari abbinamenti di colori gli orecchini sono gli orecchini big bang ispirati appunto alla grande esplosione che ha dato l'origine all'universo così si dice e appunto perché c'è appunto un tripudio di intrecci e di varie disposizioni di colore che mi ha fatto pensare appunto a questa esplosione esplosione non mi chiedete altro perché ogni tanto il mio cervello gioca questi scherzi ve li metto un attimino a fuoco così si vedono meglio allora gli orecchini sono abbastanza sono orecchini piccoli medio piccoli vedete sono due dita e mezzo mia e oltre il perno sono strarigidissimi e compatti hanno veramente una forma una compattezza una rigidità unica questo è il retro e appunto come vi dicevo i materiali per realizzarli sono le perle da 8 mm ve ne serviranno solo 8 per realizzare la coppia i bicono 4 mm le perle da 4 mm super duo e drop duo che sul davanti ovviamente ci sono un sacco di incastri quindi si vedano poco però sul retro le potete vedere e le tre misure di rocaille miuki quindi 8 0 11 0 e 15 0 nel kit troverete tutto il materiale per realizzarli quindi anche con i vari perni e le nellini eccetera ovviamente nel kit non è presente il lago e il filo quindi questa è la prima versione quella che realizzeremo insieme nel tutorial è la versione tourbillon credo si dica così spero e vi lascio la foto degli orecchini finiti e del materiale così potete vedere meglio anche l'abbinamento e i vari incastri che ho realizzato a tra poco per la seconda versione questa è la seconda versione la versione che ho chiamato via lattea data dalla luminosità e dove ovviamente siamo noi dove si trova il pianeta terra e quindi ho giocato molto sul blu guardate la brillantezza di questo orecchino dato come vi dicevo dai bicono ma anche e soprattutto dall'utilizzo di questi rivoli da 10 mm che in questo progetto ho deciso di usare la finitura ice guardate quanto sbrillucci ha questo modello di orecchino ed è veramente veramente un orecchino molto molto rigido e compatto pesano pochissimo nonostante che ci siano le perle da 8 però avendone messe solamente 4 comunque non è pesantissimo la forma è a rombo vedete ma nessuno vi vieta di montarla anche a quadrato però mi piaceva di più questo tipo di forma qui quindi questa è la versione via lattea dove ho giocato sui toni dell'azzurro del blu ma ho creato un po' di contrasto usando queste perle che vanno un po' sul bronzo e anche un po' i bicono che hanno sono se non mi sbaglio i light smoke it topaz a b2 per anche di questa vi lascio la foto e poi passiamo alla terza versione questa è la terza versione è la versione sombrero i vari nomi ovviamente sono i nomi delle varie galassie che popolano il nostro universo sono tantissime le galassie noi ovviamente ne abbiamo prese solo quattro questa è la versione sombrero sui toni del verde del bronzo e di questo oro matt che vedete fa gioca comunque dei contrasti di colore molto molto interessanti mi piace veramente tanto usare queste rocaille 8.0 color matt perché vedete che contrasto di colore che fanno con le altre perline le 11.0 diciamo con le duracot galvanized quelle normale più frequentemente usate quindi questa è la versione sombrero che troverete già disponibile sul sito e nell'info box ovviamente vi lascio il link alle varie versioni adesso anche per questa vi faccio vedere la foto e poi passiamo alla quarta e ultima versione questa è la quarta e ultima versione dei kit big bang ed è la versione andromeda qui forse riusciamo a vedere meglio i vari contrasti e vari giochi che ho fatto con le rocaille qui ho giocato molto sui toni del viola, dell'amaranto e del color cranberry vedete questo color ciliegia amarena anche questa versione mi piace tantissimo qui dentro è un rivoli sempre ice, l'amethyst, light amethyst e questa è l'ultima versione che troverete disponibile sul sito con il nome di andromeda ora anche per questo vi metto la foto degli orecchini finite e del materiale poi vi faccio un breve riepilogo eccoci qua, queste sono le quattro versioni dei miei orecchini big bang vi faccio un attimo un riepilogo questa è la prima versione che andremo a realizzare insieme nel tutorial ed è la versione tourbillon dove ho giocato sul toni del rosa, del fucsia e dell'azzurro, del blu, del color montana ed è la versione tourbillon questa invece, spero si dica bene questa invece è la versione via lattea guardate, è un abbinamento un po' più normale dove ho giocato un po' sui toni dell'azzurro, del blu e di questo bronzo ed è la versione via lattea guardate che bella questa è la terza versione che vi ho fatto vedere ed è la versione sombrero sui toni del verde, del bronzo e di questo oro matt ed infine questa, forse la più particolare, credo, insieme a questa è la versione andromeda dove praticamente ho un po' giocato sul toni del rosso, del fucsia, del viola ho fatto un po' un misto di abbinamenti e devo dire che il risultato finale mi piace veramente tantissimo nell'info box vi lascio il link sia ai vari kit sia alla sezione degli orecchini Big Bang fatemi sapere quale di queste quattro versioni vi piace di più a me piace tantissimo tutta anche questa nonostante sia la versione un po' più classica ovviamente poi ho voluto strafare un po' con i colori quindi ho realizzato queste due versioni che adoro perché sono appunto degli abbinamenti un po' particolari ma il risultato finale è veramente molto particolare fatemi sapere se volete qual è la versione che vi piace nell'info box come vi ho detto ci sono i vari link ai kit e vi aspetto al prossimo video per realizzare insieme gli orecchini Big Bang grazie per avermi seguito al prossimo video ciao 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 ciao